ciao a tutti sono qua oggi un angolino qua per terra è un angolino un po buio qua però è il posto che ho trovato che non è bagnato e che ho lavato il bagno si ho lavato il bagno truccato perché dovevo e volevo mettere le sile sfinte che non ho tanto tempo che non mettermi ho messo malissimo voglio fare questa prova di silenziente dovevo mettere quindi andiamo al e il discorso del video di oggi oggi io volevo parlare ma tutti dietro di acqua micellare si ragazzi è un video che io ce l'ho di programma penso che ma ho scritto mi sa che un anno fa vi giuro nei programmi non ho mai fatto quindi oggi ho detto di oggi non pazza e li farò questo video sull'acqua micellare quindi anche perché adesso ho trovato una che per me per me è una che mi è piaciuto tantissimo sta per finire in casa dio che si riaprono le cose per ricomprarla da poco gli faccio vedere bene questa qua bene prima di tutto io voglio parlare sull'acqua micellare bene tutto quello che so vi parlerò qua è praticamente ho chiesto e domandato tanto alla mia dermatologa in brasile qua non sono ancora andato a uno medico dermatologo io sono la massa dei dermatologisti ci andava tutto nella vita io gli chiedeva loro e per avere sicurezza perché sono medici quindi hanno fatto medicina hanno studiato più che approfondito quelle cose sulla peli sui prodotti di peli e quindi si può studiare tutto però nel senso loro e chissano davvero no sono in brasile almeno sono otto anni per finire medicina con quelli anni generali studi generali fino a la specializzazione per diventare meglio quindi non è un scherzo quindi io sempre che andavo da lei prendevo un blocco una cosa e scrivevo tutte le cosine che volevo domandare arrivavo la e chiedevo tutto quello che dovevo chiedere poi mi facevo vedere le cose che volevo fare sai trattamenti di queste cose per i brufoli che io ce n'avevo per le magliature queste cose mi facevo sempre vedere la pelle tutto ogni allergia cosa io correvo di là ero bene adesso vi parlerò sull'acqua micelare io l'ho scritto un po' di col solo per non dimenticare se do una guardata qua prima cosa che voglio parlare è sui ph della pelle la nostra pelle praticamente per avere ph normale è tra 4,5 e 5,6 questo è ph della nostra pelle e io ho visto stavo guardando in internet questi giorni mi sa che su instagram passando le cose c'era una media che diceva che non ha non c'era bisogno di tonico perché la pelle si normalizzava da sola e tutto è può darsi che si normalizza da sola ma ho fatto la cazzata di una settimana provare a non usarli tonico e la mia pelle ha peggiorato di tutto quindi nel senso lei vabbè si normalizza da solo come tutto però come tutte le parti del corpo dopo di lavata diciamo però per me penso che è meglio normalizzarlo subito con il tonico praticamente diciamo il sapone di solito c'è un ph più alto alcalino che si chiama in portoghese o ph basico che è più di se ti sei che il neutrale poi sotto e acido e sopra è uno diciamo tra virgolette basico e adesso parliamo sulla camicellare che è quello che importa questa qua c'è scritto ma tutti sono così che lei strucca del teggi questa è idratante io ce l'ho un'altra ce l'avevo un altro che era distringente ma non mi è piaciuto queste da tanti rifresca illumina e qua non c'è scritto però ragazzi l'acqua micelare anche tonifica la pelle quindi se tu hai bisogno di una se tu non c'hai soldi diciamo a non posso comprare tutte le cose quindi tu compri già l'acqua micelare la puoi usare prima per strucare la pelle ovviamente poi li lava con i saponi poi li uso come tonico questa qua che è il laboratorio Deborah questa qua è una che mi piace mi piacerebbe io ce l'ho il tonico ma potrei usare anche come tonico che questa qua trovo ruoto per me i problemi ok potete vedere bene questa qua mi piace perché lei non lascia la mia pelle appiccicata quindi io a volte la uso se ho fretta mi sono svegliata non so qualcosa a volte passa solo lei vado a mangiare poi dopo faccio la dolce l'avevi viso e lei non lascia la pelle appiccata quindi mi piace tantissimo questa qua e praticamente l'acqua micelare lei toglie il trucco pulisce tonifica quindi è una cosa che magari chi non vuoi spendere tanto chi non se ne frega un po di sequestratamento del viso può comprare solo una io non posso far vedere nessun altro perché io compro una per volta prima io ero una persona un po' accomodatrice prendevo un sacco di cose però qua la casa qua in italia è piccola non è come quella in brasilia che era tutta la casa solo per me quindi non posso riempire gli armadi di cose se non mio marito mi ammazza e bene adesso vado a spiegare com'è che funziona l'acqua micelare l'acqua micelare sono delle bolle praticamente tu non vedi qua ma qua c'è un olio sono delle bolle di olio dentro di quest'acqua qua che dentro di questa bolla dell'olio c'è acqua è una bolla che c'è una bolla dentro di acqua quindi e tu mi dice ma ma sia olio perché pulisce la pelle bene chi non lo sa e le coi simili e come si dice che la parola non riesco a parlare italiana il simile scioglie l'altro simili diciamo praticamente noi sappiamo i saponi per lavare i piatti è fatto di un grasso io già l'ho fatto io facevo saponi con il resto del come si dice dell'olio da friggere con quello lì tu fai saponi quindi diciamo è uguale toglie quell'altro uguale quindi l'olio che c'è nell'acqua micelare e che scioglie il trucco perché tu dici ma il mio trucco è fatto di acqua tutti i trucchi anche quelli che dicono che è fatto di acqua in qualche parte in qualche pezzettino è stato usato un olio quindi niente da fare ragazzi sempre ce l'avrà e l'olio in questo qualche strano io ho messo le cose sfocato quindi io parlo qua la mia bocca la parlo dopo di me sempre quelle cose di fiume di oro paura di me stessa bene ragazzi questo l'acqua micelare è un 31 sempre e quindi per me sì lei funziona e per tutti questi per me fino adesso quella che per me funziona a potrà funzionare anche come tonico è questa qua tutte le altre che io ho utilizzato e mi lasciano una pelle appiccicata dopo quindi per me era impossibile usarle come tonico già questa qua è una che io posso dire a voi che se io vado a viaggiare praticamente prima io portavo una borsa che la metà della mia valigia era solo prodotti adesso io nei posti posso dare tonico questo questo quell'altro io prendo posto qua già per di posto del tonico porto solo uno perché non vado a impazzire con un milione di cose nei viaggi e quindi ragazzi lei scioglie anche come si dice il protettore solare perché è una cosa che dobbiamo mettere sempre 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 sotto i trucco sotto quel che sia sempre mettere perché anche la luce artificiale si può bruciare la pelle invecchiare la pelle quindi è una cosa che protettore solare sempre 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 ti svegli la vi viso fa le cose metti la protezione quindi ragazzi penso che quello che avrei da parlare era questo non c'è più niente da parlare ah un'altra cosa e magari se voi chiedete sapete ma perché io devo equilibrare il ph della pelle in me se io non faccio questo equilibrio la mia pelle rimane più grassa la mia sorella che c'è la pelle secca di ferire di venire ferite se lei non equilibra il ph della pelle di lei la pelle di lei si ferisce e si secca ancora di più quindi nel senso magari per te tu puoi lavare con i saponi e non succedere niente la tua pelle si stabilizza subito diventa di nuovo acida subito va subito sui 4 tra i 4 e i 8 ai 5 e i 6 però la mia e di una parte delle persone no quindi posso dire che usare un prodotto per equilibrare è una cosa buona e anche per pulire quindi per me dei prodotti diciamo di cura della pelle questo qua la comicellare a uno che possiamo dire che è tanto valido tantissimo valido io le farò vedere un'altra volta bene qual è quella che utilizzo e questo qua non lo so c'è il coso qua del foco che è un scendo bene il mio foco oggi non vuoi mi odia quindi ragazzi è questa qua della Deborah penso che ti dici Deborah non sono sicura non lo so non lo so non mi chiedessi non so parlare non so parlare non so parlare niente bene ragazzi è questo serve è una cosa che serve per tutto serve anche per farla dolce come si vedete qua che è spruzzata un po' la mia sta per finire ah questa qua ha costato 10 euro però ho comprato in centro commerciale in quelli negozi non mi ricordo i nomi dei negozi non so se è stato nella Douglas no no non mi ricordo lascio stare però costato 10 euro c'è qua è scritto e quindi magari trovate per un valore minore di questo e spero no perché 10 euro però a me questo qua c'è lavoro da 6 mesi penso che sei medici un pochino qua un pochino ancora però io ragazzi io quando penso cose per la mia pelle per trattare io preferisco non comprare quelle cose che tanto low costi perché io penso che vabbè il prezzo tante volte è vali perché c'è una cosa c'è il laboratorio c'è una ricerca per arrivare a quel prezzo lì e quindi non esagero comprando magari un'acqua micelare di 100 euro non so neanche se c'è ma forse probabilmente perché va non so c'è ne ho avrà la sua acqua micelare o no ma se c'è ne ho scoperti vabbè non costerebbe tutto questo dai ragazzi ho fatto questo video mettete mi piace nei video e certo si ha piaciuto a voi e iscrivi commento qua sotto e iscriviti nel canale un bacione ah un'altra cosa probabilmente qualcuno non lo abbia guardato fino alla fine del video ma chi ha guardato io voglio fare un video sulle domande sui capelli dobbiamo parlare di questo nell'inizio del video però io non ho fatto un... non ho scritto bene le cose come dovevo fare ho fatto tutto di fretta questo video c'è un milione di cose da fare oggi non so neanche come farò quindi ho fatto un video così di fretta quindi se avete delle domande sui capelli per favore iscriviti qua sotto qua sotto nei commenti che io appena avrò una quantità buona di domande farò questo video un bacione e alla prossima ciao ciao ciao